e siamo ritornati in studio ancora una volta siamo insieme siamo ad angoli per chi non fosse stato però in mia compagnia dall'inizio di questo appuntamento della sera vi ricordo come sempre che in ogni momento potete inviare una mail al nostro indirizzo di posta che angoli chioccio la espansione tv punto it per restare sempre in contatto con la nostra redazione in questa seconda parte del nostro appuntamento abbiamo degli ospiti davvero speciali perché ci parleranno di un laboratorio teatrale ma soprattutto di un evento che davvero alle porte allora ne parliamo assolutamente con loro e do il benvenuto a visi d'oro taccagni ciao esidoro grazie per essere qui tu sei un segnante e sei anche come dire responsabile di questo quindi insomma grande responsabilità di questo laboratorio soprattutto per quanto riguarda insomma gli attori e tutti tutti coloro che graviteranno intorno a questo evento ma ne parleremo nel dettaglio tra pochissimo perché insieme a te io devo salutare e ringraziare per essere qui anche claudio benedetti ciao claudio tu invece sei studente ex alunno insomma perché tutto questo ricordiamo lo avviene al collegio gallio quindi in questo spazio meraviglioso dove insomma ci si prepara si cresce ci si forma ma anche l'arte ha il suo spazio dedicato e quindi questa sera ce ne parlerete allora arriviamo a questa addirittura ventiquattresima edizione si ventiquattresima tanti anni migliaia di ragazzi di ragazze di bambini di bambini lui è uno dei delle migliaia che hanno che hanno fatta questa esperienza che è un'esperienza di palcoscenico ma non soltanto esidoro perché è bello stare su un palcoscenico fare teatro perché coinvolge così tanto allora perché è bello perché credo che innanzitutto sia una ormai delle pochissime esperienze veramente sociali comunitarie che ci siano al di là del gioco di squadra i bambini ormai sono sempre più proiettati su se stessi oppure su quel diavolo di aggeggio che hanno in mano che è pieno di potenzialità straordinarie ma che purtroppo ahimè li chiude veramente in un circolo vizioso che 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 non dà sfogo all'esterno e abbassa la loro attenzione non solo proprio fisicamente ma anche mentalmente in curva su se stessi e invece il teatro è un momento in cui uno può anche dire può anche non dire nulla può anche soltanto fare un'apparizione di pochi minuti in scena ma è un momento in cui tu devi partecipare a un grande gioco e poi un gioco fascinosissimo insomma è come questo insomma le luci le luci il microfono il canto la musica e però non sei nulla se al di là di tutta questa meraviglia non c'è poi invece non c'è poi invece il contatto con gli altri il fatto di partecipare alla stessa storia lo stesso un po lo stesso sogno insomma claudio sei d'accordo con questa interpretazione della bellezza dell'esperienza teatrale tu che appunto l'hai vissuta e che ora stai trasferendo anche questa tua bella esperienza essendo spalla in tutto questo sì sono assolutamente d'accordo anche perché l'esperienza che ho svolto al gaglio negli anni delle medie poi appunto cercato di continuare al liceo è davvero formativa risolve anche tanti problemi io sono un ragazzo appunto di 24 anni quindi posso ancora definirmi ragazzo e devo ammettere che tanti problemi di insicurezza problemi anche di bullismo spesso i ragazzi tra di loro risolvono recitando o comunque convivendo questa esperienza problemi che sono insorti tra di loro o insorti con altri compagni di classe che magari fuori dal palco sono no magari considerati meno di altri e quando sono sul palco per quella battuta detta bene per quel momento in cui sono riusciti a strappare un applauso finalmente hanno i loro meriti che vengono riconosciuti anche dai compagni esidoro caspita che considerazione ci ha fatto claudio poi calandosi proprio in questa realtà storica di oggi nella quale il bullismo ahimè è protagonista e sentirsi dire una cosa di questo tipo insomma apre il cuore sai la parola bullismo è spesso come dire sopravvalutata il problema è che quelle che una volta erano dinamiche anche di gruppo normali fra i ragazzi così come tutto ormai il livello di violenza verbale di scrittura sui social di convivenza normale il livello di vivenza è diventato folle ormai in tutta la società così questo è succede anche nella scuola il teatro riporta tutto a un livello molto più 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 di gioco anche giocoso senza avere magari il lato di violenza che ha un uno sgambetto un'entrata un po un po fallosa nel 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 calcio io lo dico sempre ai ragazzi voi potete avere non fate non contate le vostre battute con il quello l'aggeggino di word che ti dice quanti sono le parole che devi pronunciare tu puoi anche fare un versaccio e farlo bene e hai tutto il pubblico che esce dalla rappresentazione dicendo però come ha fatto bene quel versaccio e magari ride ancora poi per per una settimana e questo riporta ragione lui riporta tutto su un piano diverso e i ragazzi hanno un'assoluta necessità di questo è un'altra cosa che il teatro fa e che è importante anche per controllare questa questo non so incremento di violenza che io non riesco a capire da che cosa da dove arrivi da dove arrivi è il fatto che il teatro è una una sorta di scuola di autocontrollo pare se pare soltanto forse inferiore di poco alle arti marziali il controllo di se stessi il controllo della motricità fine del del movimento della della faccia che poi noi non facciamo scuola di teatro quindi lui è capace quando quando lo vedo fare certe cose con il ragazzo suo lui ha un talento suo poi lui è andato a scuola io mi sono imparato da solo lui invece è molto capace ma al di là di quello insegnare a un bambino che per fare tre movimenti ci vogliono tre momenti non una roba tutta pasticciata insieme insegnare a un bambino che se deve salire sul palco e deve guardare il la persona con cui parla non è detto che la debba guardare per tutto il tempo ma può magari anche volgersi verso il pubblico e questa è una cosa che lui deve ricordare tutti questi momenti di controllo sono per me una competenza incredibile che poi non si impara in nessun altra in nessun altro campo il professionista che deve andare a parlare a un gruppo di 20 di 20 dipendenti dove ha imparato a parlare in pubblico per noi insegnanti è facile perché il nostro mestiere ma per un professionista non lo è che mi piace tantissimo come stai raccontando questa esperienza perché al di là della passione che tu ci metti che ovviamente coinvolge me che sono qui davvero a pochissima distanza ma sicuramente anche voi che state ascoltando mi colpisce tanto che tu dia al teatro a quest'arte a questo modo di comunicare con gli altri questo valore educativo che sin da piccoli poi crescerà come un piccolo seme messo messo nella terra e diventerà quasi una base della nostra capacità di stare anche al mondo direi perché comunque poi diventare capaci di relazionarsi di controllarsi di saper fare anche di saper ascoltare perché in teatro ci sono questi sguardi che si scambiano quindi c'è molto ascolto è davvero bellissimo poi tra l'altro il teatro non è fatto soltanto di palcoscenico cioè noi abbiamo tecnici di scena abbiamo scenografi che lavorano tutto un anno intero e anche questa è una cosa straordinaria il fatto che uno per un anno intero e poi non andrà sul palco avrà soltanto il suo nome sul programma di sala però potrà dire vedi quel costume l'ho cucito io con risultati spesso di ogni genere ecco piuttosto piuttosto fantasiosi però importante che possa dire l'ho fatto io e non l'ho fatto per me non è una cosa che metto io è una cosa che mi rimane ma l'ho fatto perché lo indossi un altro e lo indossi lui faccia bella figura lui e io non c'entri niente ma l'ho fatto perché perché partecipo questo grande gioco quindi si perde quel rischio di diventare ego riferiti in un certo senso che invece stando sul tablet sul telefonino e su sui social diventa quasi un modo di vivere ecco invece l'altruismo l'apertura anche perdere quel protagonista quel protagonismo di facciata che però ci rende comunque complici di un successo collettivo e questo è proprio bello allora claudio torno da te perché tu sei passato insomma dall'alunno poi invece come abbiamo detto a colui che collabora in tutto questo risultato in questa edizione quali sono i risultati che insomma usciranno tra qualche giorno sul palco e che tu vedrai con soddisfazione anche da un altro punto di vista ma i risultati sono molto interessanti perché la storia di quest'anno è davvero diversa dalle ultime non solo nel contenuto della trama ma nell'economia di tutta la storia e di quello che si vuole far passare ai genitori che verranno alle persone che verranno a vedere lo spettacolo quindi aperto a tutti è aperto assolutamente a tutti ma sottolineo che è molto particolare davvero particolare perché è una commedia che veramente racconta una storia sicuramente scabrosa no come quella degli inca no degli inca perché noi è la fine del dell'impero inca e della possibilità che ci potesse essere stato e non c'è stato un posto che uno scontro un incontro abbiamo ci siamo inventati la storia di un gruppo di di inca che incontra un piccolo sparuto gruppetto di di spagnoli e i due i gruppi incominciano a convivere al posto che ha da scannarsi a unirsi e incominciano a capirsi gli spagnoli imparano checua di fatti il prima la prima scena sarà in spagnolo e i ragazzi parleranno in spagnolo e in checua vabbè insomma facciamo parlare in italiano non li facciamo parlare in italiano quindi gli inca parleranno italiano gli spagnoli parlano spagnolo poi pian piano gli spagnoli imparano finché arrivano invece gli spagnoli cattivi quelli che vogliono raffare loro che quello che succedeva all'epoca e allora i gli inca disperati chiedono sostanzialmente aiuto agli spagnoli buoni che si fingono cattivi e con una sorta di ribaltamento e di finzione di teatro fanno in modo di convincere gli spagnoli cattivi che c'è già qualcuno che sta maltrattando gli inca non c'è bisogno che arrivi che ne arrivino degli altri il finale non è così scontato ma non lo racconto perché non è così scontato e però è proprio un sogno che che potrebbe essere un sogno ma che ahimè la storia ci dice che non si è mai realizzato allora intanto ricordiamo quindi quando ci sarà la possibilità di seguire questa bellissima storia 17 giovedì 18 venerdì alle 20 e 30 maggio giusto alle 20 e 30 nell'auditorium del collegio gallio alla mattina facciamo anche il mattinè perché da anni che facciamo questa cosa molto carina invitiamo i bambini dell'asilo a vedere il della scuola dell'infanzia a vedere la cosa e un gruppo di anziani della calindustria mettiamo insieme ci più o meno nelle stesse sedie cent'anni in due per più o meno anzi anche questo è molto teatrale e vediamo le reazioni perché gli anziani da una parte sono estremamente esigenti e i bambini poi i bambini dell'asilo sono assolutamente assolutamente che i critici più 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 terrificanti perché se alla terza scena si vede che i bambini incominciano a guardarsi intorno vuol dire c'è qualcosa da rivedere abbiamo fallito bene quindi sicuramente sarà una bellissima esperienza da non perdere io ringrazio isidoro taccagni per essere stato qui ma per questa cosa che tu hai dentro bellissima grazie per avercela regalata e grazie a claudio benedetti per averci raccontato un'esperienza da l'uno ora invece da diretto protagonista nel portare avanti questa bella tradizione arrivata fino alla ventiquattresima edizione grazie davvero e grazie anche a voi per essere stati in mia compagnia restate lì tra poco come sempre i colleghi dell'informazione a